Prima di cominciare l'episodio però vorrei farvi vedere delle cose che ho trovato a Fort Hagen che però mi sono dimenticato di mettere nello scorso episodio, metterò il video proprio adesso Siamo tutti e ben ritrovati su Fallout, da un po' che non porto, sì è la stessa roba che ripeto ogni episodio Dopo 20 giorni esce un altro episodio e dico sempre la stessa roba, mi sono rotto le scatole Quindi dico semplicemente ben trovati e sì Piper è senza armatura perché andiamo a fare una cosa speciale oggi Andiamo a prendere l'armatura più forte del gioco, non fate domande e seguitemi Uh, predone leggendario, Piper silenzio silenzio silenzio, levati dalle scatolissime Oh Piper ma porca pu... Ma, 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 ma ora capite perché io, io non riesco a fare i zecchinaggi Ora, ora, sapete chi è la causa? Sì, sì, sei tu, sei tu, sei la causa dei miei malanni Su tre vo... ah, non mi ha visto Minchia Ah sì, ve l'ho già detto, ve l'ho già detto che faccio 2,5 di danni Su quelli silenziosi Aspetta, aspetta E non ci vedi, fai bene Oh, cavolo Non è finita Chi c'è? Ah, predone, puff Antì Sì, sono migliorato nella mira, grazie È perché Battlefield 1 aiuta Affilato, torace in... No, 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 no Ridere, niente Corto fucile d'assalto Possiamo ricavarci qualcosa di buono? No, mi dispiace Non c'è nessuno Predone distruttore Ti distruggo io se... No, 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 no Tu non vieni da me così Si lo spavo perché è da vicino No Neh, qui scopo un cavolo Ha un predone Non sono riuscito a ucciderlo con un colpo Qua non va bene Chi è che... Ah, saccheggiatore Beh, poco A chi deve sparare Vedo Anche un... Ah, no, 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 no Vabbè, sciottiamolo E anche te sciottiamolo Due Beh dai, uno su due E col cavolo che lo prendiamo ora Valla a prendere Valla a prendere Valla a prendere Valla a prendere Di forza Oh, livello 39 Utilissimo Proprio qualcosa che vorrei fare Qua si può aprire Permesso? Si È permesso A quanto sembra Steampack Penna Piombato Si può senere che facci qualcosa Coltello No E questo qui era povero Qua sta sempre bene Questo invece Questo qua invece Si Munizioni Contorniamo Sembra che ci siano Delle mine E il livello Il livello Si, siamo vicinissimi Ora io Per potenziare Proprio per diventare Un fortissimo Ecco qua Ecco qua Fanatico di armi A livello 4 E adesso posso potenziarmi Tutte le armi Quasi Se ti fai scienza Se ti fai scienza A livello 3 A livello 4 Cos'era? E Fanatico di armi Sei a posto Ah Mal protetta Davvero mal protetta No Eh sì Eh sì E anche qui Mi dispiace Mi sembra che Uh Cavaliere delle confraternita Sono amici Sono amici Eh no Tu non sei amico Wow Oh stiamo migliorando Con la mira eh Bene così Bene così Anche se Oddio C'è un predone Sopra l'altro Spada rivoluzionaria Mi sa che ci ricaviamo Solo ferro O acciaio Come volete chiamarlo Qua prendo tutto Qua non si può ricavare nulla Cali di frame Vi prego Basta Mi fate Mi fate sfigurare Torretta miteletrice Perfetto Altri Stavo per dire Altri Ma Ah Ah Sì no 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 Stavo per sparargli Stavo per sparargli Voi non sapete In che In che Posso dire Non sapete Quanto in merda Andavo Se gli sparavo Per fortuna Che uso quasi sempre Lo spav Qua qualcuno Si è divertito A spaccare Un Qua si è divertito A morire tutti E basta Questa qua Sarebbe vuota Però Torretta miteletrice No sentivo Sentivo un boom Vicino a me Ho detto che Saliamo Oh mio dio Non è che fanno Anche gli scalini Ti prego Eccola qui La custom house tower Come potete vedere È stata saccheggiata Da dei Super mutanti Come potete Ovviamente vedere Con delle decorazioni Di halloween Bello E E E una statua Di george washington Apparentemente Non so se è stata Buccherellata Ma difficilmente Credo mangiata Perché Zucca di plastica 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 Qua ci sono Schede derivari Si Si Questa qui È la custom house tower Accendino Beh La custom Perché cavolo Date di vernice La custom house tower Finisce qui Si È solamente una stanzetta Mi dispiace Cavolo Mi stavo preoccupando Il caricamento È stato lunghissimo Tipo Ma tanto lungo Vabbè Andiamo al So Andiamo al sodo Non era qui che volevo andare Però Però ho detto Già che ci siamo Esploriamolo Così Se magari Mi dimentico Cavolo Per fortuna Che ho visto il segnale Se no Ai 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 Questo qua Già No No Vabbè Adesso è stato Depredato Qua è stato spezzetta Chi c'è Qua c'è Un altro predone Tutto utile Tutto utile E anche qui Qualcosa di utile La troviamo Tu avrete Un'elettrice Quella che ho spaccato No Qua si diventano Tutti a spaccare Rob Corta 35 Corta 35 35 35 45 Corta Perché dire 35 Mi fa Tipo quelli Che dicono HDMI Stuprare Due lingue In una In una parola Sola Quindi O una o l'altra Qui vedete Che è tutto Spezzettato E anche I predoni Si Non scherzano Andiamo al sodo Qua vedo Predoni 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 So Non siete qua Per vedere Una raccolta Dei fiuti Quindi Quindi è meglio Andare avanti E basta Cos'è Visto Meglio Farla fuori Subito Ah no Sta qua Disattivata E infatti Gli sparavo Mi diceva Anche che facevo Danno Quindi vuol dire Che dobbiamo usare L'ascensore Va Piper E ormai Addio Andiamo un po' Perfetto Ora si vede Andiamo un po' Quanto siamo Secondo Tolgo l'arma Andiamo un po' Quanto siamo Professionali Bello Tra ne poi Perché Ora capite Perché non riuscivo A A cecchinare Nessuno Mi si metteva Davanti Io cosa Devo farci Se non sparare L'io Ho dimenticato I nuclei di fusione Spero se ne sia Già uno Lì Vabbè Non è Non è Complicato Neanche uno Piper Per fortuna Uso l'acqua sporca Perché Non è E E L'ascensore Che si apre In due tempi Diversi Mi dava Non poco Fastidio Quello è un classico Quello è un classico Che porta Apri Base 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 Non va Non va Tac Qualcuno Qualcosa Una Pippa Cassaforte Difficile Qua Si va Sulle sfide Piano Qua No Che Ho capito Di aver capito Più Giù Perfetto Vediamo un po' quante cose utili abbiamo trovato Automatico laser pistola Perfetto Si Non mi serve Perché Già di cieli di fusione Ne ho pochissime Quindi Armi Altre armi Cieli di fusione No grazie Sacca di sangue vuota Cane di cane salvatico Chissà chi ci vive qua Se ci vive ancora Ma ho serissimi dubbi Abbiamo preso anche leggerissime retezioni Quando Ora 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 Siamo nel punto Predestinato L'unico Grandissimo Però Oh cavolo È già cominciato Eccolo Eccolo Lì c'è Andate su Pai No Palo Save me No Scaricati Scaricati E le cose La cosa è una sola Ti spacco le braccia Uno Due Oh Oh Cosa fai ora Dai 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 Muori Muori Morto Mortissimo Cavoletto Oh cosa vuoi da me 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 Io sono tuo amico Io sono tuo amico Fuori dalle scatole La musica sotto è totalmente epica Però non ho tempo di osservarla Di stare ascoltarla Per po' no la faccia la faccia no è uno dei pochissimi a cui la faccia non fai danno muore ti prego si non esplodi vero no allora vai per sei stato un ottimo un ottimo cavallo di troia letteralmente sei stato un ottimo capro espiatorio andate su io io sono innocentissimo andate su di lei che non ha fatto nulla quello che voglio farvi vedere prima dell'assalto è questa questo cos'è è quella vero no non sta di no non sta a dirmi premi premi spostati pulsante interagisci anche qui devo premere pulsante altrimenti col cavolo no si un secondo ma perché la texture è diversa non so io ho preso io ho detto no non è possibile in realtà si è la X-Zero 1 è la X-Zero 1 è la X-Zero 1 siamo perfetti siamo dove sei dove sei dove sei Piper 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 qua Piper eh l'ha ben perso è andata non ha non ha retto le emozioni di aver visto una X-Zero 1 è quello che è successo a me la prima volta divano ok basta perdere oh sei tornata adesso noi non entreremo in questa ma in realtà potremmo ma ma I-Zero 1 MK ora io tieni quello che io ho addosso lo do a lei ossia armatura torace piezo nucleico si pare 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 detto il rumeno come l'ho detto però ecco qui uno prendi tu no no ah ok ho capito equipaggia dov'è la T60 no cosa gli ho ah ok va bene va bene va bene ok tutto ok si tranne il torso tutto ma non il torso il a proposito il torso dov'è torso ah già torso pezzo nucleico ecco perché non c'era però 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 cioè apri tutto adesso si che c'è la texture cioè ditemi ditemi questa roba spacca al mondo l'armatura che può pure fino a tutte le guerre perché fai una guerra e vinci solo con questa abbiamo trovato il vaso di pandora questa può distruggerci ma può salvare la nostra avventura con questa la sopravvivenza può anche essere una passeggiata tra i palazzi tra i palazzi decisamente ok allora non tornerò al sì non farò il video di tornerò alla casa perché perché cioè un secondo ed è cattivissima cattivissima questa è un'armatura che voglio ditemi poi il compagno adesso è un'armatura molto migliore io ho l'armatura l'armatura poi mark 3 mark 3 vuol dire ti spacco la bocca veramente no no io potrei stare qua a guardare l'armatura per eoni no anni per eoni dopo ricordatevi 35 court qui è dove pronuncia in inglese da ergastolo però 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 qui è dove troverete la x01 mi raccomando noi d'ora in poi nelle missioni più pericolose pericolose useremo questa e vedremo chi avrà coraggio di usciterci da d'alfa alef è tutto ci vediamo